Immacolata, Vergine bella, Di nostra vita, Tu sei la stella, Fra le tempeste, De guida il cuore, Di chi ti chiama, Stella d'amore, Siamo peccatori, ma figli in voi, Immacolata, prega per noi, Siamo peccatori, ma figli in voi, Immacolata, prega per noi, Siamo peccatori, ma figli in voi, Tutta la sua vita fu marcata dalla sua presenza. Momento forte fu il 1878 con il sogno Con cui Maria Santissima lo confortava e lo incoraggiava a perseverare nella fondazione della famiglia religiosa. Nel fondare la famiglia Cusmaniana, forte sarà l'impronta mariana da definire la regola, come la vita di Gesù Cristo copiata da lei stessa. Nella preghiera di Padre Giacomo, la devozione mariana è grandemente teologica, Gran Madre di Dio, un titolo e una devozione che va oltre i soliti devozionismi con cui allora veniva ricordata e celebrata la Santissima Vergine. La devozione mariana del Cusmano è robusta come tutta la sua spiritualità. Maria è pienamente inserita nel mistero dell'Incarnazione, con partecipe della passione e morte salvifica di Gesù. Maria è essente dal peccato originale ed unita a Dio per grazia. La sua maternità spirituale comincia ai piedi della croce. La sua disponibilità al progetto di Dio è chiara ed esplicita. È maestra e modello di ogni anima che vuole conformarsi a Cristo. La Mariologia che si ricava dall'esperienza spirituale, dagli scritti e dagli insegnamenti del Cusmano non prevedono solo aspetti devozionali, ma è soprattutto imperniato sull'esempio che deve coinvolgere quanti onorano la Gran Madre di Dio. Alla luce dell'esperienza mariana del nostro abbiato padre Giacomo Cusmano, i figli e le figlie del Cusmano devono impegnarsi di imitare la vita di colei che ha copiato fedelmente la vita di Gesù Cristo. Ove la mia speranza, dolce amordio Maria. Tu sei la vita mia, la pace mia sei tu, tu sei la vita mia, la pace mia sei tu. Sei mai pensier con questo, viene a turbar la mente, sento ya l'orquecente e non mi toque a mai. Sento ya l'orquecente e non mi toque a mai. In un mondo provato duramente da questa pandemia che ci affligge, con fiduciosa speranza rivolgiamoci con fede alla nostra Mamma Santissima, Maria Immacolata, Madre di Misericordia, affinché lei presente le nostre suppliche a suo figlio Gesù. Diciamo insieme, Maria, Madre di Misericordia, proteggici. Maria, Madre di Misericordia, proteggici. Per il mondo intero, sempre più minacciato dalla diffusione del Covid-19, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. E per intercessione di Maria, tua e nostra Madre, proteggici. Preghiamo. Maria, Madre di Misericordia, proteggici. Sappiamo che tu hai cura di noi, Signore. Benedisci quelli che hanno la responsabilità dei popoli, affinché sotto lo sguardo di Maria, possano prendere delle decisioni in favore dei popoli loro affidati. Noi ti preghiamo. Maria, Madre di Misericordia, proteggici. Donaci la grazia, Madre Santissima, di vivere come te in fedeltà creativa, la nostra consacrazione di serve dei poveri al servizio degli ultimi. Noi ti preghiamo. Maria, Madre di Misericordia, proteggici. Quando nell'ombra cade la sera, è questa, oh Madre, la mia preghiera. va pure il santa, l'anima mia. Ave Maria, Ave. E quando l'alba annuncia il giorno, all'ora tua faccio ritorno, dicendo sempre con voce via, Ave Maria, Ave Maria, Ave. Dicendo sempre con voce via, Ave Maria, Ave. Nei giorni lieti di gioia pura, e in quegli ancora della sventura, e in quegli ancora della sventura, ti dirò sempre, oh Madre mia, Ave Maria, Ave Maria, Ave. Ti dirò sempre, oh Madre mia, Ave Maria, Ave. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie. 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 Grazie.